Il viaggio di Vittorio, il cooperante giornalista del Manifesto e scrittore, morto a Gaza nella notte tra il 14 e 15 aprile del 2011. Raccontato dalla madre Gidia Berretti, autrice del libro presentato a Barletta presso il Punto Enaudi, nell'evento organizzato dall'Arci Cafiero. Vittorio Arrigoni ha vissuto diversi anni in Cisgiordania e nella striscia di Gaza per sostenere la popolazione palestinese e denunciare le condizioni di vita alle quali questa è costretta nello Stato di Israele. Durante l'operazione militare israeliana a piombo fuso è stato l'unico giornalista italiano ad essere presente sul campo aggiornando il mondo intero tramite il suo blog Guerriglia Radio e tramite i suoi articoli sul Manifesto. La verità che ci hanno presentato è una verità parziale. D'altra parte non è possibile nemmeno andare più a fondo della questione, del motivo per cui Vittorio è stato ucciso perché il responsabile materiale della sua uccisione è stato a sua volta poi eliminato dalle forze di Hamas quando non hanno voluto arrendersi e quindi è una domanda che rimane. Io me lo chiedo sovente però non ci sto a perdere il sonno su questa cosa perché a me importa di più che Vittorio venga ricordato per la sua vita piuttosto che per l'orribile morte che ha fatto. Con il suo libro Egidia Berretta fornisce una preziosa testimonianza della vita di Vittorio Arrigoni, volontario attivista pacifista a voce libera che raccontava Gaza dall'interno e che adesso torna a farsi viva anche attraverso i numerosi lettere che madre e figlio si sono scambiati durante i suoi numerosi viaggi e missioni umanitarie. L'incontro moderato al giornalista Roberto Straniero è stata anche un'occasione per approfondire e discutere il tema delicato del conflitto israelo-palestinese. È stato un lungo cammino quello di Vittorio. Non per niente io ho intitolato il libro che ho scritto Il viaggio di Vittorio perché è iniziato proprio da ragazzo a mettersi alla prova, a cercare di capire quale fosse il senso del suo essere al mondo. Questo per Vittorio era un interrogativo anche doloroso che lo tormentava. Vittorio non si accontentava della vita normale, della quotidianità. Diceva che ciascuno di noi dovrebbe lasciare il mondo diverso e più bello di come lo abbiamo trovato. E lui si è impegnato proprio così attraverso i campi di lavoro, la conoscenza delle altre culture. Finché poi tutta questa esperienza, tutta questa sofferenza anche interiore lo ha portato a capire che suo posto era in Palestina. Ed ecco il motivo della scelta che Vittorio ha fatto. Grazie. 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 Grazie.